bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 72 esimo episodio della nostra serie sulla master league con l'inter signori in su ispro evolution social 2 signori prima di partire col video vi ringrazio per i commenti per il supporto e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale allora signori prima di partire il video io ho recuperato durante la settimana tutti i vostri commenti e diciamo che sono arrivato a una conclusione noi per la prossima partita non compreremo nessun giocatore io ero indeciso di prendere lopez o roberto carlos claudio lopez o roberto carlos signori mettiamo un attimo una pausa in che senso in che senso che mi avete suggerito comunque di puntare su ronaldo e allora noi facciamo in questa maniera noi ci andremo a giocare la partita con l'ajax che la prossima partita se dovessimo vincere allora noi continuiamo a mettere punti da parte in previsione di comprare a ronaldo se dovessimo pareggiare o perdere signori noi andremo a prendere claudio lopez perché diciamo ho fatto questa scaletta di priorità ovvero se vinciamo gli acquisti saranno ronaldo claudio lopez e roberto carlos se non vinciamo e quindi pareggiamo o perdiamo contro l'ajax la prossima partita e l'ordine di acquisti sarà claudio lopez roberto carlos e infine ronaldo metteremo nuovamente soldi da parte per puntare su ronaldo detto che signori non perdiamo altro tempo procediamo alla partita che contro l'ajax e vediamo di e vediamo un attimino come finisce come finisce signori l'obiettivo ve l'ho detto l'obiettivo ve l'ho detto e vincere se vinciamo puntiamo ronaldo perché comunque iniziano i punticini iniziano essere belli belli importanti se pareggiamo o ancora peggio perdiamo contro l'ajax signori vuol dire che abbiamo bisogno di rinforzi e rinforzi saranno e rinforzi saranno claudio lopez e successivamente roberto carlos allora noi abbiamo for london che è espulso bene valeri centrale c'è silica cellini matt bavangita lo spostiamo per miranda castello bolatta va bene signori purtroppo meglio di questo non possiamo fare andiamo a cercare lontro l'ajax l'obiettivo è portarci a casa i tre punti signori i tre punti perché voglio ronaldo ronaldo se non è effettivamente ci darebbe tanto ci darebbe tanto però tutto dipende da cosa hanno voglia di fare i miei giocatori signori già 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 partiamo ma matt bellissimo bellissimo tu provaci tu provaci porca miseria signori vicinissimi vicinissimi non chiedetemi come questo pallone sia arrivato lì perché non è la palla di idea però vicinissimi vicinissimi buono 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 mi sa che anche miei hanno sentito l'autore di di ronaldo di ronaldo e l'idea gli piace signori l'idea gli piace signori l'idea gli piace guardate babangita come partito carico babangita è partito carichissimo babangita è partito carichissimo porca miseria grandissimo metti tu provaci mannaggia 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 siamo partiti bene signori siamo partiti benissimo no bene no porca miseria calma 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 chiudere spazio giudere spazio non gli permette di cross ha guadagnato troppo spazio meno male meno male meno male vai bamba vai bamba party vai bamba party vai bamba party chiedi una triangolazione chiedi una triangolazione bellissima triangolazione per il bamba dai non mi puoi buttare a terra babangita così girati provaci no stavo passando signori stiamo stiamo costruendo tantissimo non è che è cambiato il livello di difficoltà perché uh uh non è che è cambiato il livello di difficoltà perché dico stiamo costruendo tantissimo la cosa mi piace babangita 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 bellissimo 1 2 troppo lungo però troppo lungo va bene non ci non ci credo non ci credo questi bug me li ricordo precisi che tu tiravi precisa la bandierina la prendevamo come se non ci fossero domani babangita devi andare sulla fascia va bene non ci va babangita sulla fascia ma porca ma porca ma porca ma porca ma porca ma porca calmati calmati aspettano bravissimo sesile no l'ha fatto a crossare l'ha fatto questo meno male che abbiamo valeri meno male che abbiamo valeri e che abbiamo babangita nuovamente che ha recuperato il pallone subito a parte per il conto bene babangita 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 no 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 porca miseria l'errore è stato mio che ho voluto fare la triangolazione con con quello più lontano se mi sentite parlare un pochino più tardi signori perché sto registrando a tarda serata quindi non posso urlare tanto se non mi buttano fuori da dai passata passata bravi sopra l'avevo banjira che riesce a ripartire grande bomba grande bamba ventitresimo signori ventitresimo ci siamo mangiati tutto quello che ci potevamo mangiare sono mangiare tutto ci siamo mangiati questa già devono stare in vantaggio grandissimo vari mannaggia oh porca miseria grandissimo guarda bambangita che riparte bambangita 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 aspetta il movimento lo sapevo io che finiamo fuori gioco e la devo dare prima gliela devo dare prima non ci ho pensato non è che non ci ho pensato ho aspettato troppo grande no bambangita mia l'avevi fatto avevi fatto il numero bravi va bene ivanov va bene ivanov giocala lì giocala lì con calma giocala lì aprila lì guarda il bamba che parte veloce non ti ferma nessuno bamba non ti ferma nessuno bamba abbiamo bisogno di due gol bellissimo ma porca è 1 a 0 signori 1 a 0 castello la sblocca lui cazzarola della miseria castello la sblocca lui la sblocca lui bellissimo il tiro di bolata la respinta del portiere castello riesce a anticipare il difensore del ajax e ci portiamo avanti 1 a 0 a proposito di giocatore della ex mi avete suggerito anche over mars che non ho non sono andato a guardare non sono andato a guardare quindi non so effettivamente di cosa stiamo parlando via 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 volata per bambangita mannaggia a te bamba mannaggia dagliare nuovamente bambangita che riparte subito in contropiede bambangita bambangita tagliala perché così male perché così male bene o male mamma mia che l'ho vista brutta ancora pallone per bambangita che fa fuori il difensore fa fuori il difensore però poi sbaglia lo scatto ma riesce a farlo fuori attenzione no porca miseria met grandissimo mette che lotta grandissimo mette che lotta e poi fa una cagata terribile mette mio non ci provare calma 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 guarda la guarda ce l'ha lì ce l'ha lì bravissimo pallone per cellini che avanza piano piano cellini 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 c'è lini bambangita dovevi partire prima però bambangita mio dovevi partire prima al quarantesimo una zero per noi una zero per noi e loro sbagliano completamente signori errore grossolano dell'ajax io ho paura per il secondo il che brutto fallo sommette che però riesce a rialzarsi ma class non so chi sia ma class sinceramente o qualcuno a cui passarla no in sicurezza no quindi tu spara pacchiala in area di rigore meglio così che perderla e regalargli un contropiede terribile va bene fregate non ti preoccupare addirittura cartina giallo pure presto ma un giallo a testa al 43 nel primo tempo bravissimo bravissimo più o meno più o meno più o meno più o guardano 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 baiso bambangita mangi da mangi da come dire deve fare fuori in mezzo mezzo ajax e non gli riesce mamma mia cosa stavano facendo tutte e due fric e frock bravo bambangita parti bambangita chiudiamo la prima della fine del primo tempo porca miseria va bene va bene finito tempo 1 a 0 per l'inter non male non male non male non male andiamo a spostare bambangita sulla fascia si sulla fascia vabbè andiamo a invertire bambangita con miranda e ritorniamo in campo signori ritorniamo in campo ritorniamo in campo ricordiamo che l'obiettivo è la vittoria se vogliamo puntare a ronaldo signori anzi più la vittoria sarebbe pomposa meglio meglio sarebbe signori riuscissimo bellissimo l'aggancio di bambangita 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 va bene rimessa della mia ok mia 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 va bene va bene la bambangita per castolo la pagina non ci va sulla fascia mannaggia a te a chi non te lo dice pur non ci vuole andare proprio meglio ci hanno già andato dopo tre ore signori mette mette anticipo dicevo l'importante puntare alla vittoria signori perché pareggio sconfitta ci fanno cambiare gli obiettivi quindi il nostro obiettivo è la vittoria signori un pareggio o una sconfitta non non vanno bene non vanno bene signori jorga 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 per un bambangita che non parte signori un po un po scarico un po scarico un po scarico bambangita tiene in campo tiene in campo mannaggia a te a non te lo dice pure mannaggia a te chi non te lo dice pure no porca miseria ci ho provato ci ho provato e niente con la stacca di testa manco manco bellissimo bravissimo se si grandissima riconquista di palla per cellini per strome che deve farla girare per gli org che cerca il bamba che riesce a parte grandissimo bamba grandissimo momento del bambangita grandissimo momento il bambangita ma che passaggio è bamba ma che passaggio è noi per cercare una vittoria pomposa mi fai sti passaggi porca di una grandissimo jorga che cerca bambangita che parte bellissimo bambangita no 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 l'avevamo chiuso ma poi palo esterno palo esterno signori palo esterno potrebbe essere un palo interno ballerigliela tocca mannaggia mannaggia fuori fuori meno male meno male grandissimo mette si sacrifica knopol buttala sotto perché lo so come finisce sta palla lì quindi mail preferisco va bene va bene va bene cerchi bamba cerchi bamba 12 12 guardi bamba mette sei alto mette una tic tac mette tanto cuore ma poca altezza mette mio no 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 fuori sta palla va bene va bene va no ba bambangita buttato giù ma porca miseria ma porca. i nuovi noti 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 fuori 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 stiamo soffrendo stiamo soffrendo troppo stiamo soffrendo troppo stiamo soffrendo troppo al 26 buonazione dell'ajax siamo un attimino fatti confondere. Pallone lì. Pallone lì. Pallone lì. Pallone lì. Pallone lì. Bamba, riesce a tenerlo? Sì, ma non riesce. Buono. Buono uno. Buono due. No, cazzo di una miseria. Infame. Va bene. Va bene. Dai, ma perché non c'è più nessuno dei miei sulle seconde palle? Buttala fuori subito. Stiamo soffrendo tantissimo. Stiamo soffrendo tantissimo, signori. Siamo al trentunesimo. Stiamo soffrendo tantissimo. Vediamo un attimino. Perché in due? Perché in due nessuno dei due è riuscito a essere abbastanza... Guardalo, guardalo subito a Babanji. No, dai, però che cazzo, rodi una miseria. E Sivanov? Ok, 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 ok. Calma, calma, relax. Calma, relax, signori. Calma, relax. Calma, relax. Giocala lì. Giocala lì. Giocala lì. Giocala sul Bamba. Ok. Ok, ok. Bravissimo Bamba. No, bravo Bamba che prende il fallo. Alza di vero Babanji. Bravo, così. Riusciamo a trovare un compagno. Buono. Pallone per Castello. Guardalo. Bellissimo il fallo. Bravo, bravo. Andiamo avanti con i falli, signori. Andiamo avanti con i falli. Castello non si alza. Infortunio giallo per Castello. E io non so a chi cazzo lo va a passarlo. Bolatta. Porca miseria. Porca miseria. L'idea era buona. L'idea era buona. Grandissimo Miranda. Miranda. Niente. Signori, Babanji non gli va più di correre. Castello, porca miseria. Castello gli aveva dato un gran pallone. Aia, brutto fallo. Brutto fallo. Scatta il giallo pure Percellini. Non si alza nemmeno il giocatore del Crunchcare. Una gara fatta di cartelli gialli, di falli e di infortuni. Però va bene. Però va bene. Non l'hanno sostituito? No. Nemmeno l'hanno sostituito, signori. Mamma mia, Ivanov, cosa ha salvato? Santo Ivanov, signori. Santo Ivanov. Cosa ha salvato Ivanov? Stiamo rischiando troppo. Stiamo rischiando troppo. Stiamo rischiando troppo. Mamma mia, meno male. Meno male l'ha buttata fuori. Ho il 41esimo. Il 41esimo. 41esimo. A chi? A chi? No! No! Bello che ho detto va bene! Va bene. Il pallone per il Bamba. No, 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 no. Va bene così, Miranda. Miranda per Babangita. Babangita, Babangita, Babangita. Tienela tu. Tienela, Bamba. Tienela, Bamba. No! Ma come? Minuti di recupero. Minuti di recupero. Minuti di recupero. Recupera. Recupera sto pallone. Recupera sto pallone. Cazzo, lo tiene la misera. Recupera. Bravissimo. Sì, signori. Sì, sì, sì. Mamma mia, che partita sofferta. Vinciamo 1-0, signori. E quindi abbiamo stabilito un nuovo obiettivo, signori. Puntiamo a Ronaldo. 10 tiri a 6, signori. 10 tiri a 6. 10 tiri a 6. Ma di cosa stiamo parlando? Intanto Dortmund e Firenze pareggiano. E noi guadagniamo due punti su entrambe. L'Its e Chelsea pareggiano. Il Marsiglia batte West Ham. Ci interessa poco. Come sempre, il commento è rapido. Ci interessava Dortmund e Firenze. Castello trova il gol partito al trentesimo. Dagli così, signori. Dagli così. Dagli così. Dagli così. Saliamo a 42 punti, signori. 42 punti. È importantissima questa cosa, signori. Siamo terzi. A due punti dalla Fiorentina seconda. E a quattro punti dal Dortmund. Prima in classifica, signori. E abbiamo due punti di vantaggio sopra il Chelsea, signori. Quindi ci siamo, ci siamo, signori. Ma la cosa più importante è che il nostro obiettivo... Noi abbiamo 42 punti, signori. Il nostro obiettivo, che non sono loro, ma sono... Ce l'ho qua io? Non c'è qua, signori. Il nostro obiettivo, signori, che adesso è diventato lui. Che lo devo trovare. Addirittura è in panchina, pure nel Brasile. Parliamo. Ronaldo, signori. 50. Siamo a 8 punti dal nostro obiettivo. Due vittorie ci servono. Due vittorie e il gioco è fatto. Due vittorie, signori. E avremo preso Ronaldo. Detto questo, signori. Ricapitolo, signori. Ronaldo, primo obiettivo. Claudio Lopez, secondo obiettivo per fare la coppia d'attacco. Terzo obiettivo, Roberto Carlos, signori. Per puntare al scudetto della Serie A direttamente, proprio senza pensarci, signori. Detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i commenti, per i studenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao!